È vero che se si cambia la spina decade la garanzia di un apparecchio, ragazzi? Decade o no cambiando la spina? Alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no. Allora, i costruttori dell'apparecchio vi dicono di sì, ma state tranquilli che la successione dei consumatori vi diranno il contrario. Quindi non fidatevi sempre di quelli che vi vendono il materiale. Quando ve lo devono vendere va bene tutto. Quando invece c'è da avere qualcosa a vostro favore non va più bene.